Entreranno in vigore dal prossimo 6 agosto per tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni le estensioni relative all'utilizzo obbligatorio del Green Pass annunciate ieri pomeriggio nel corso di una conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Sarà necessario esibire il certificato verde per le consumazioni al tavolo all'interno di bar e ristoranti, mentre non verrà richiesto per i servizi all'esterno o per quanto riguarda i bar al bancone. Il Green Pass servirà anche per accedere a diversi altri servizi e attività, tra cui palestre, piscine e centri benessere. Sul fronte cultura ed eventi il certificato verde diventerà obbligatorio anche per mostre musei, cinema, teatri, stadi, concerti e competizioni sportive. In zona bianca e in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico saranno svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che si è assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i non conviventi. Anche l'ingresso a feste e ricevimenti, parchi tematici e di divertimento, sagre, fiere, convegni e anche ai concorsi pubblici richiederà l'esibizione del pass. Nessuna novità invece sulle discoteche che rimangono quindi chiuse, mentre sono state rimandate le decisioni relative al comparto scuola e trasporti. Il Green Pass verrà rilasciato dopo la somministrazione della prima dose del vaccino anti-covid, a completamento del ciclo la validità del certificato sarà di nove mesi, oppure in seguito alla guarigione dal virus, in questo caso la validità sarà di sei mesi, o ancora con l'esecuzione di un tampone rapido molecolare che renderà valido il pass per le 48 ore successive allo svolgimento del test. Le misure del nuovo decreto e le comunicazioni di ieri hanno interessato anche la proroga dello stato di emergenza e l'istituzione dei nuovi parametri per far scattare il cambio della fascia di rischio assegnata alle regioni. Il cambio di colore si attiverà tenendo in considerazione il numero dei nuovi contagi e quello dei ricoveri ospedalieri. Con un'incidenza pari o superiore ai 150 casi ogni 100.000 abitanti e superando il tasso di occupazione del 10% nelle terapie intensive e 15% nelle aree mediche, si finisce in zona gialla. Le percentuali per la zona arancione segnano il superamento del 20% nei reparti intensivi e il 30% in quelli non, mentre lo scatto in zona rossa sarà sancito da una pressione ospedaliera che vede le terapie intensive occupate per oltre il 30% e le altre aree mediche per il 40%.